Il nostro marchio consiglia come tratto distintivo importante è la qualità. Noi cerchiamo la qualità in tutti i nostri prodotti e per questo motivo cerchiamo dei fornitori che ci possano garantire uno standard qualitativo elevato per fornire ai nostri consumatori un prodotto che sia realmente competitivo sul mercato dal punto di vista della qualità. Per questo motivo ci siamo affidati a Riso Scotti che è un produttore storico, un fornitore storico nel mondo del riso che ci garantisce proprio questi standard qualitativi che noi ricerchiamo nei nostri fornitori. La collaborazione nasce ormai da tantissimi anni ed è una collaborazione che ci dà la possibilità di costruire insieme un percorso per arrivare a un consumatore, un consumatore oggi sempre più attento e questo va sicuramente nelle righe, nelle politiche commerciali che il gruppo consiglia vuole condividere con noi. Noi sono tanti anni, come dicevo prima, che facciamo il prodotto a marchio consiglia, abbiamo sviluppato anche tre nuove referenze che il gruppo lancerà a breve.